Approvata all'unanimità la normativa che allarga la platea per il sostegno delle famiglie che hanno subito danni in seguito agli eventi calamitosi del novembre 2023. La norma prevede uno stanziamento fino a 3.000 euro per i nuclei familiari, per il ripristino o la sostituzione anche di beni mobili. L'atto è stato illustrato in aula dalla Presidente della Commissione Sviluppo Economico Ilaria Bugetti. Questa legge è molto attesa peraltro dopo gli eventi eccezionali di novembre che hanno compito molte province della regione toscana va ad ampliare la tipologia di beni che sono ristorabili alle famiglie che hanno fatto la denuncia dei danni. Come ricordo la denuncia dei danni è stata prorogata fino al 9 febbraio e le domande che sono pervenute sono circa 7.000, qualcosa meno. Ma l'attesa delle persone e delle famiglie era quella di poter beneficiare di un ristoro non solo sui beni immobili ma anche sui beni mobili quindi per intendersi anche le autovetture che sono andate danneggiate. Con questa norma non si va a fare una variazione alla legge che avevamo approvato a dicembre ampliando la possibilità di poter ristorare anche tutti i beni immobili. È stata fatta una valutazione proprio sulle spese ammissibili in maniera tale da poter introdurre all'interno di quelle categorie altre spese che altrimenti non sono rimborsabili nel classico modo che ha la protezione civile di affrontare queste situazioni. Per esempio beni immobili, altre categorie di beni danneggiati che di solito la protezione civile non rimborsa. Con le risorse regionali quindi si va sostanzialmente ad accumulare anche l'intervento che ci potrà essere dallo Stato. Complimenti alla Presidente della Commissione, alla Commissione, complimenti alla Giunta. Questa proposta di legge trovo sia una proposta di legge che va incontro alla necessità di tantissimi cittadini allargando il platon dando la possibilità di ricevere contributi. Speriamoci sia la possibilità di riaprire addirittura i termini affinché tutte le risorse che sono state messe a disposizione possono essere erogate. Voglio ricordare che le province sono passate da 5 a 7 quindi Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Massacarrara, Pisa e Livorno. A mio avviso, essendoci le risorse, più si riesce ad allargare il platon, più persone riescono a fare la domanda e miglior servizio avremo leso alla nostra comunità. Si estende e si amplia la platea dei soggetti e dei beni risarcibili perché le domande, ci dicono gli uffici, sono inferiori rispetto a quello che si preventivava. Questo non vuol dire che l'alluvione sia stata meno disastrosa, semmai c'è da interrogarsi se la regione sia stata in grado, anziché di fare polemica continua col governo, di intercettare tutte le sollecitazioni che venivano e vengono dai territori a partire dalle famiglie per finire alle imprese. Cerchiamo in tutti i modi di mettersi a disposizione e di consentire alle famiglie di riprendere una vita normale ricomprando i beni di prima necessità che sono andati distrutti con l'alluvione. Votato all'unanimità, anche un ordine del giorno affirma Bugetti, Elena Meini della Lega e Vittorio Fantossi di Fratelli d'Italia, che dà un indirizzo al regolamento della Giunta per chiarire le modalità di presentazione delle domande e il modo in cui vengono erogate le risorse. In più abbiamo approvato un ordine del giorno che consenta di chiarire che se hanno avuto dei beni mobili danneggiati o mobili danneggiati si può fare una richiesta anche senza aver ricomprato subito il bene. Quindi era secondo noi necessario specificare in modo che le persone e le famiglie si sentissero tranquille nel poter avere questa piccola somma sicuramente, ma che è già qualcosa di importante. A fianco a questo i 12 milioni per le imprese, dove la Regione si fa carico di tutta la parte istruttoria per i progetti e quindi le domande che sono pervenute, dove ricordo ci stanno dando una mano anche le associazioni di categorie, Camere di Commercio, Confartigianato, CNA, che stanno seguendo le domande. Quindi da questo punto di vista la Regione si fa carico di tutte le spese istruttorie. Quello che abbiamo chiesto è che si faccia un focus nel capire perché tante famiglie ancora non hanno richiesto appunto il risarcimento di una parte dei danni subiti. Le risposte sono in primis che sicuramente la compilazione delle domande, quindi tutto l'iter burocratico che poi porta alla richiesta di risarcimento è un iter che ancora oggi è complicato e quindi sarà nostro dovere provare a sburocratizzare il più possibile la richiesta di risarcimento anche con i fondi che ulteriormente la Regione metterà a disposizione e con i fondi del Governo. Il secondo punto è quello di smetterla, di dire che il Governo centrale non manderà risorse, che le risorse per i cittadini toscani non ci sono e non ci saranno, perché sicuramente questa immagine che la politica sta dando in questo periodo è un'immagine che non fortifica e che non dà delle garanzie ai nostri cittadini. Quindi dobbiamo tranquillizzarli affinché la Regione toscana farà la propria parte, prenderà in considerazione tutte le domande che arriveranno e per tutti i cittadini e per tutte le imprese che si rivolgeranno a tutte le istituzioni il mondo della politica troverà per loro uno spazio e troverà per loro le modalità per risarcire nelle basi delle disponibilità che sono di competenza dei varienti quelli che sono i danni che hanno subito da quel bruttissimo alluvione. Avviare in tempi rapidi il percorso per chiamare Enel Green Power a presentare il piano industriale sulla geotermia, sia a maggioranza con 29 voti favorevoli, PD Italia Viva, Fratelli d'Italia e Lega e 2 No, Movimento 5 Stelle, alla proposta di risoluzione illustrata in aula da Andrea Pieroni. La risoluzione prende atto del dettato normativo che il decreto legge ha introdotto in virtù del quale appunto è la regione toscana in quanto soggetto attuatore a dover chiedere al concessionario uscente, questa è la denominazione che propone la legge, di fatto il concessionario è Enel Green Power, quindi la regione dovrà chiedere a Enel Green Power di presentare un proprio piano pluriennale di investimenti che deve rispondere a tutta una serie di requisiti che la legge individua, quindi la manutenzione e il miglioramento degli impianti attuali, investimenti per nuovi impianti, sicurezza, occupazione, salvaguardia dell'ambiente e tutela della salute. Ecco, alla luce del piano industriale che Enel Green Power presenterà, la regione sarà chiamata a valutare la fattibilità e la rispondenza di questo piano ai requisiti, ai presupposti della legge, e qualora questi presupposti fossero validati, la regione potrà, diciamo, rinnovare le concessioni per un massimo di 20 anni, quindi un obiettivo importante, un'opportunità da accogliere, noi con la risoluzione sollecitiamo la giunta a far presto, perché il termine previsto dalla legge è il 30 giugno 2024, inoltre chiediamo alla giunta di coinvolgere sia gli antilocali, i comuni, ma anche il tessuto socio-economico di quei territori, di quelle realtà che vivono di geotermia. Tel Aviv ha convintamente votato a favore di questa risoluzione, la geotermia è una risorsa importante per la Toscana, lo è per l'Italia, lo è per la nostra economia, è una fonte alternativa di energia che si può riprodurre e come tale deve essere valorizzata, può produrre lavoro, produce lavoro, produce redditività, e come tale la regione Toscana deve fare il massimo nelle proprie funzioni per fare in modo che le concessioni vengano riattivate e tutti i nostri comuni geotermici possano utilizzare questa risorsa straordinaria. La Toscana può dare un grande contributo in termini energetici all'Italia, lo dà a se stessa e come tale Tel Aviv è convinta che questa sia una di quelle condizioni necessarie e fondamentali per migliorare anche il nostro tessuto economico e ovviamente sociale della nostra regione. Intanto io penso che sia giusto ringraziare il governo Meloni e Giorgia Meloni in persona, quale Presidente del Consiglio, che ha firmato quel decreto insieme al Ministro dell'Ambiente. Sembrava fosse una partita impossibile, una partita dove non si sarebbe potuto andare incontro a una proroga così lunga, invece il governo si è assunto la responsabilità e ha fatto una proroga ventennale per la concessione geotermica. Il governo è il titolare della concessione, la regione è la centrale appaltante. Questa proroga è però condizionata, si parla infatti di proroga condizionata al fatto che l'attuale gestore, l'attuale concessionario Enel Green Power presenta un piano industriale entro il 30 giugno 2024 che tenga conto di 5 linee di indirizzo fondamentali tra le quali garantire il livello occupazionale e la qualità dell'occupazione. Questo piano industriale dovrà essere bollinato, certificato dalla regione toscana. Noi oggi chiediamo che la regione toscana acceleri, facendosi parte diligente anche nei confronti del gestore, la scrittura di questo piano industriale che convochi allo stesso tavolo l'attuale gestore ma anche gli enti locali, i comuni interessati, le imprese del territorio perché chiaramente si tratta di una partita complessa che rappresenta tantissime persone, tanti comuni, che rappresenta l'unica possibilità occupazionale per i comuni coinvolti. Quindi da questo punto di vista ci dovrà essere appunto un lavoro a più mani. Noi ci auguriamo che si voglia tener conto di questo e che la regione sia parte diligente nei prossimi mesi come non lo è stato negli anni scorsi e ancora una volta un grazie a Giorgia Meloni e al governo italiano. Io ho fatto presente in aula che la geotermia non è ovunque uguale ma dipende dalle caratteristiche del sottosuolo. Mentre può essere una geotermia buona nella zona di Larderello dove non ha conseguenze sugli abitanti, non si può dire la stessa cosa nella zona del Monte Ammiata dove studi scientifici fatti proprio dalla regione toscana evidenziano la presenza nel sangue, nei capelli degli abitanti di quella zona della presenza di sostanze non proprio salutari come l'arsenico, il capmio, il taglio sono tutte sostanze gravemente nocive per la salute. Quindi non riusciamo a capire come la regione toscana all'unisono tra Italia Viva PD e tutta la destra si concorde nello sviluppo di questa attività geotermica in quella zona, soprattutto senza avere un piano industriale in mano da valutare e neanche sapere l'entità degli investimenti che si vogliono fare in quella zona. Io, a differenza di tutti gli altri, vorrei sapere quante centrali geotermiche si intende costruire e soprattutto perché non si vuole fare una gara. Questa proroga delle concessioni, a mio avviso, tutela va in controtendenza rispetto al principio della concorrenza su cui si fonda tutta l'Unione Europea. La Toscana ha 38 nuovi tutori volontari per i minori stranieri non accompagnati. Gli attestati ai cittadini che hanno scelto e sostenuto la necessaria selezione e formazione sono stati consegnati a Palazzo del Pegaso dalla garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza Camilla Bianchi. Alla consegna erano presenti il presidente del Consiglio regionale Antonio Masseo e Silvia Chiarantini, presidente facente funzioni del Tribunale per i minorenni di Firenze. Noi abbiamo bisogno di nuovi tutori volontari di minori non accompagnati perché la Toscana è una terra che non si è mai voltata all'altra parte, una terra che sa accogliere, una terra che sa sostenere anche chi soffre di più. Chiudiamo gli occhi e mettiamoci in quelle ragazze, in quei ragazzi che arrivano nel nostro paese, che arrivano nella nostra Toscana, a volte non conoscono la nostra lingua, hanno bisogno di vicinanza, hanno bisogno di affetto e sapere che oggi 38 cittadini e cittadini toscani si rendono disponibili a sostenerli, a supportarli, mi dà sempre di più il senso di quanto è grande il cuore toscano. E a loro grazie, grazie a chi ogni giorno si impegna per formarli, perché poi la formazione è fondamentale, grazie ai magistrati che svolgono un lavoro difficile in questo settore e che in questi anni hanno messo in campo con noi una proficua collaborazione. L'occasione di questa cerimonia attesta l'importanza della formazione di nuovi tutori e tutrici della Regione Toscana per persone di minore età, staniere e non accompagnate. Il ruolo dei tutori e tutrici volontari rappresenta quindi un significativo esempio di cittadinanza attiva e dà il segno di un impegno sociale che rende le nostre comunità più responsabili, più civili e più inclusive. I tutori volontari sono cittadine e cittadini che a titolo gratuito e volontario presteranno il loro servizio in qualità di rappresentanti legali e di figure di riferimento rispetto alle necessità delle persone di minorità straniere non accompagnate che come sappiamo vivono una condizione di particolare vulnerabilità. Sono i cosiddetti vulnerabili tra i vulnerabili perché persone di minorità, perché straniere e perché sole. Ai tutori volontari, alle tutrici volontari appena formate che accompagneranno e sosterranno tale persone di minorità nel loro percorso di accoglienza e di integrazione all'interno delle nostre ragioni va quindi tutta la nostra autentica e sentita gratitudine. È importante soprattutto quando parliamo in questo momento preciso di minori stranieri non accompagnati è garante di un sistema di accoglienza che è stato innovativo in Italia introdotto a differenza di tanti altri paesi con la legge del 2015 decreto legislativo del 2015 e la cosiddetta legge Zampa del 2017. È un sistema di accoglienza integrato nel senso che vede tante figure che collaborano istituzionali che collaborano dal garante agli enti territoriali regione e comune oltre diciamo il ministero e il tribunale per i minorenni che è un po' al centro della regia il regista di tutte queste attività che si svolgono intorno ai minori e che ha il compito proprio anche di essere istituzione figura centrale di riferimento per i tutori volontari questa nuova figura importantissima di cittadinanza attiva questo è un po' il sistema è un esempio di collaborazione sinergica finalizzata all'accoglienza un paese democratico che è alla vocazione dell'accoglienza ecco questo credo che questo sistema ancora da perfezionare ancora voglio dire da sviluppare però effettivamente è stato veramente innovativo grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti